Jingle Spot Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online Un emittente rispetto a un'altra Possono essere solamente In maniera sana concorrenti E che magari i conduttori Pogneranno essere amici No, ce deve essere l'inciucio Ma sapete perché c'è Secondo loro c'è l'inciucio Perché vengono da una vita d'inciuci Vengono da una vita d'inciuci Siccome ora non c'è più Daniele Pradec Che alzava il telefono e te dava le notizie Adesso sono impazziti tutti quanti Sono tutti quanti impazziti E allora ecco tu hai detto questo Perché quell'altro Noi viviamo in una maniera diversa da voi Per noi la Roma è una cosa bella da commentare Che ci fa arrabbiare qualche volta Che ci fa intristire molte volte Disperare in qualche occasione Ma parte da un presupposto bello Parte da un presupposto bello Che è una cosa che stiamo E invece voi che da 50 anni Inciuciate, fate, cosate E tu quanto gli metti a quello Io gli metto 4 e mezzo Allora gli metto 4 e tre quarti Liberatevi, liberatevi La Roma è una cosa bella Avete rovinato una generazione di tifosi Ne avete creati proprio a Su misura Avete creato un tifoso nuovo Il tifoso che non festeggia il derby Il tifoso che non festeggia il derby Dove vince 4 a 1 Dove sono l'allenatore Dove vanno in ritira a Norcia Ditemi come fa un tifoso da Roma Non festeggia in una giornata così Ciao Riccati Pronosticonline.com Trovate anche i consigli Per il fantacalcio Di Emiliano Donati Pronosticonline.com Vi ricorda Che scommettere E' vietato Ai minori Di 18 anni Scommettete sempre Responsabilmente